Primo consiglio della nuova amministrazione a Liberi davanti ad un folto pubblico. La seduta è stata decisa di farla svolgere all'aperto davanti alla nuova struttura comunale nel rispetto delle misure anti-covid per motivi di spazio e anche per l'alta temperatura di queste ore che si abbatte sull'intera penisola. Nel corso del consiglio sono stati affrontati i vari punti all'ordine del giorno come il giuramento del sindaco, la presentazione della nuova giunta, la elezione del presidente del consiglio, le varie commissioni e le numerose deleghe affidate dal sindaco visibilmente emozionato. Tanta emozione penso che era molto visibile come cosa. È chiaro che il risultato elettorale è stato netto e quindi questa cosa ci onora e ovviamente ci impegna a lavorare sempre di più per tutti i cittadini del comune di Liberi. Abbiamo ascoltato anche le linee programmatiche con tanti progetti in itinere, tanti obiettivi che l'amministrazione si è previstata ma anche un'apertura verso la minoranza e quindi a collaborare tutti insieme nell'interesse della comunità. Sì, allora ho fatto solo un breve riassunto delle linee programmatiche perché erano molto lunghe e avrei tolto tempo ai cittadini. Un'apertura nei confronti della minoranza ci sarà, c'è sicuramente, quindi chiediamo collaborazione a una corretta di essere corretti reciprocamente. Si prevede e si spera anche in un clima di distensione da parte della stessa opposizione. Quale sarà il ruolo dell'opposizione di voi consiglieri di minoranza all'interno dell'assizio cittadina? Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto in questa tornata elettorale. La nostra sarà un'opposizione forte ma corretta, improntata sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti dei cittadini. Colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo all'amministrazione e al neosindaco. Anche il neopresidente del Consiglio, Vincenzo Colucci, ha ribadito la sua ferma intenzione e quella dell'intera maggioranza ad un clima sereno di collaborazione per il bene dei cittadini. Siamo con il neo rieletto presidente del Consiglio Comunale di Liberi, Vincenzo Colucci, una meritata riconferma ma ha un aspetto che lei ha sottolineato, la presenza nutrita di un pubblico e speriamo possa mantenersi anche nei prossimi anni. Sì, certamente. A Liberi fa piacere che le persone, la cittadinanza partecipi ai lavori del Consiglio Comunale. Spero che questa cosa continui anche nei prossimi mesi che in quanto abbiamo parecchio lavoro da fare, quindi la vicinanza e la costanza delle persone ci fa molto piacere. Questo insieme anche alla partecipazione della minoranza e quindi un dialogo costruttivo all'interno dell'Assemblea Cittadina. Sì, spero che inizi un dialogo, almeno per quanto mi riguarda ci sono delle cose da chiarire per quanto riguarda la collaborazione e merito ad aspetti che sono stati portati in questa campagna elettorale. Spero di poter chiarire questi aspetti sia in Consiglio Comunale che anche in separata sede con il gruppo di minoranza. Da Liberi è tutto, Lorenzo Plauso per casertasera.it